Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Kuna93 Oggi vi faccio un domande per il fuck proprio perchè non lo faccio da un casino di tempo Quindi ragazzi un video molto veloce Scrivetemi giù le vostre domande che vorreste farmi e che probabilmente diterò, anzi diterò, monterò il video E entro la settimana, se riesco domenica o venerdì Sì, domenica o venerdì Altrimenti settimana prossima sarà o lunedì o mercoledì E niente, scrivetemi tutte le vostre curiosità Ovviamente se non avete mai visto un domande per il fuck andate a vedervi vecchi E sicuramente sono indietro di almeno 100 video Probabile ragazzi, è un po' di tempo che non lo faccio Quindi non fregatevele, mi farà piacere comunque sia rispondere a domande che magari avete già fatto Qualcuno nuovo che non le sa E vabbè, nulla Quindi ragazzi, da CuraNorte è tutto Ci vediamo alla prossima Bella ragazzi Ah, per finire un'altra cosa, mi sono scordato Sto incominciando a montare il video su tutti i Call of Duty Quindi preparatevi anche per quello Perchè sarà veramente una bomba Ciao Ciao